Buongiorno, per ridurre le importazioni di energia dall'estero, il Governo ha predisposto un piano di sviluppo del settore energetico, dove circa il 24% degli investimenti sono destinati all'offerta di energia da fonti rinnovabili, proprio perché il Paese presenta ingenti risorse naturali, in primis idriche, oltre che biomassa e fonti solari e eoliche. Gli impianti idroelettrici in Brasile rappresentano circa il 70% della capacità elettrica totale e nonostante ciò il potenziale idroelettrico del Paese non è ancora pienamente sfruttato. Oltre alle risorse idriche, il Brasile possiede una grande quantità di biomassa, derivante da un patrimonio forestale di oltre 6 milioni di ettari di superficie boschiva, dove la canna del zucchero è la risorsa più abbondante. Non mi resta che salutarvi, salutare questo meraviglioso Paese e darvi appuntamento con la prossima pilola di energia direttamente dalla Cina.